Tifosi, appassionati e amanti del calcio dilettantistico, allacciate le cinture. Il campionato di eccellenza abruzzese sta per decollare. Le 18 squadre del girone scenderanno in campo questa domenica con l'intento di iniziare a carburare. Al di là di ogni pronostico, rompere il ghiaccio sarà fondamentale. Nella lunga e calda estate che ormai volge al termine, Vastese, San Salvo e Cupello hanno fatto il possibile per arrivare pronti a questo appuntamento. La prima delle tre, che dovrà misurarsi con una delle squadre più armate del girone, sarà la Vastese, di scena a Pineto proprio questo fine settimana, mentre il San Salvo sarà impegnato a San Buceto ed il Cupello in casa con la Torreza. Per assistere al primo incrocio tra le squadre locali bisognerà aspettare il 27 settembre, poi ce ne sarà un altro d'ottobre e in seguito a novembre l'attesissimo Vastese San Salvo. Tutto è pronto ormai, i motori sono abbastanza caldi e la voglia di partire in quarta c'era. Quello che è certo è che sarà una stagione da vivere fino. All'ultimo secondo volerei da te, da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.